Snellire le procedure e ridurre i tempi agli sportelli. Il comune di Torre del Greco va verso la digitalizzazione dei servizi. Le novità sono state illustrate questa mattina nel corso della conferenza stampa Palazzo Baronale. Già a partire da domani sarà possibile richiedere online certificati anagrafici e autocertificazioni, accedendo con lo SPID o la carta d'identità elettronica a Smart NPR o sul portale web del sito istituzionale del comune o scaricando l'app. Alla conferenza stampa sono intervenuti in sala consigliare il sindaco Giovanni Palomba, l'assessore a ramo Giuseppe Speranza, il dirigente ai servizi demografici Andrea Formisano, l'istruttore informatico del comune Palmerino Colamarino. Un servizio importante per i cittadini di Torre del Greco che in questi mesi spesso sono stati costretti a subire lunghe file e ore d'attesa. È inevitabile adottare questo sistema che ci offre la possibilità di ridurre enormemente il lavoro agli sportelli ai nostri dipendenti che sono già in numero risicato. Una scelta che nasce anche dopo tutti i disagi vissuti in questi mesi per le difficoltà e la mancanza d'organico all'ufficio Anagrafe. Il disagio noi lo viviamo prima da cittadini e poi anche da politici e da amministratori. Sicuramente a noi altri non fa piacere avere enormi file lì all'ufficio rilascio carta d'identità o in altri uffici. Quindi abbiamo ritenuto con questo primo passo, con questa prima attività, incominciare ad alleggerire un pochettino quello che è il peso anche psicologico in alcuni momenti di questa attività. Con la digitalizzazione tentiamo appunto di fornire i servizi necessari ai cittadini di Dore del Greco, tra cui io sto puntando anche per quanto riguarda l'urbanistica e diciamo quello che è il nocciolo duro per quanto riguarda il nostro comune. Dunque snellire le procedure e ridurre i tempi? Sicuramente, perché dobbiamo stare comunque al passo con quelle che sono le linee guide del governo centrale. Ormai tutti i modelli unici, i 730, possono essere fatti online come anche nella fatturazione elettronica o rispettivi elettronici. Ormai è il futuro. Palmerino Colamarino, istruttore informatico del comune di Dore del Greco. Come si farà ad accedere a questa piattaforma? Qual è la procedura? Da domani mattina sarà disponibile sul sito istituzionale del comune il classico clicca qui che comprenderà un link dove verremo smistati automaticamente presso questo applicativo che abbiamo acquistato che è già personalizzato per il comune di Torre del Greco. L'accesso potrà avvenire con due metodologie. Potrà avvenire o tramite lo speed, la classica identità digitale, o tramite la carta di identità elettronica, la nuova carta di identità. Quando c'è stata consegnata, c'è stato consegnato un PIN, metà quando l'abbiamo richiesta, metà quando c'è stato fisicamente consegnato all'azienda. Quello sarà il nostro PIN per l'accesso tramite la carta di identità. Una volta all'interno del sistema è molto facile da utilizzare, ci chiederà che tipo di certificato vogliamo facendoci scegliere tra una lista di certificati, se il certificato è relativo alla nostra persona fisica o se è relativo ad un componente del nostro nucleo familiare anagrafico. Cosa significa? Che se io voglio chiedere un certificato per mio figlio, che fa uno stato di famiglia a parte, non posso chiederlo. Una volta scelto il certificato, ci chiederà l'utilizzazione che dobbiamo fare di questo certificato. Questo ce lo chiede per i cosiddetti certificati in bollo. Qualora noi dovessimo emettere un certificato in bollo, abbiamo l'onere di acquistare la marca da bollo prima di scegliere il certificato. Al momento che diciamo che ci serve per un uso, che serve per il bollo, la procedura ci chiederà il codice univoco di quella marca da bollo, che è un codice a 14 cifre stampato sulla marca. Non farà nient'altro che sul sistema dell'agenzia delle entrate rendere inutilizzabile quella marca perché ci dirà che è stata utilizzata per un certificato. E quando andremo a produrre il certificato che viene in PDFA, il nuovo standard anche per la trasmissione telematica, indicherà il numero della marca da bollo, quindi successivamente possiamo addirittura spedirlo via email a qualcuno e il certificato risulterà in bollo con la marca da bollo virtuale. Altrimenti lo possiamo regolarmente stampare, applichiamo o non applichiamo la marca da bollo fisicamente, quella marca da bollo è annullata e possiamo consegnarlo dove lì c'è stato richiesto. In questa fase, definiamo la pseudo sperimentale, è legato esclusivamente ai residenti del comune di Torre del Greco e in procinto, in fase di studio, allargare a delle categorie, a delle associazioni di categorie quali i tabaccai, i CAF, gli edicolanti, gli avvocati, l'opportunità per quelle persone che non hanno né lo SPID né la nuova carta d'identità regarsi lì ed emettere un certificato evitando le file giù agli sportelli del comune.